Marzo 1985. L'equilibrio rispetta l'andamento del torneo, con i nerazzurri a precedere i cugini di sole due lunghezze. È Virdis ad inaugurare la sfida con perfetta scelta di tempo. Al terzo della ripresa sale in cattedra Calle Rummenigge, uno a uno. Il finale è di fuoco. A nove minuti dal termine Altobelli in filaterraneo. Sembra fatta, ma Bergomi offre a Verza l'occasione del pareggio e il rossonero non se la fa sfuggire. Due a due.